Ma credo che bisogna essere fedeli al Concilio perché è il Concilio che ci ha dato la possibilità di vivere il cristianesimo nei nostri giorni, secondo quell'aggiornamento che voleva Papa Giovanni e certamente vivere il Concilio significa vivere più evangelicamente il cristianesimo. Ormai credo che il Concilio ci ha insegnato che la forma del Vangelo deve essere la forma della vita cristiana. Questa è una compressione irrinunciabile che modellerà la vita della Chiesa, la vita delle comunità e la vita anche dei cristiani nella società e in mezzo agli altri uomini. Ma io credo che il cristiano non ha mai paura della società contemporanea, non nutre nostalgie perché il cristiano è stato collocato da Dio qui in questo tempo e non può sognare un altro mondo se Dio non gliel'ha dato. Il dialogo poi il cristiano lo fa perché condivide l'umanità con tutti gli altri. Certo è un dialogo che va fatto con la consapevolezza di essere cristiani, conoscendo molto bene per quanto è possibile la propria fede e cercando di capire l'altro nel suo cuore, come cerca anche lui sui nostri cammini che sono certamente sempre incerti ma sui quali l'uomo vero che è in noi, che poi è quello che è l'immagine di Dio, questo ci dà la possibilità per cercare insieme la verità. Non dobbiamo aver paura del dialogo e neanche certo renderlo qualcosa che risponde alle mode. Noi dialoghiamo perché siamo cristiani, perché Gesù ha dialogato con tutti, peccatori, santi, stranieri, pagani, ebrei, insomma conosciamo bene come per lui mai c'è stato un ostacolo nell'incontrare gli altri. Ma la fede deve essere quella che la Bibbia ci indica, una fiducia, un grande atto di fiducia. Noi non dobbiamo dimenticare che la fede in Dio è un dono di Dio, ma Dio può solo innestare questo dono là dove ci sono degli uomini che esercitano la fiducia verso gli altri, verso la terra, verso il futuro, verso ciò che trascende l'uomo. Se non c'è questa fiducia negli altri, questa fiducia nella terra, nel futuro, Dio non può neanche innestare la fede in Lui. Perché se uno non sa credere ai fratelli che vede, come può credere a un Dio che non ha mai visto? Ne può vedere se non al di là della morte. Grazie a tutti.